Oh, è la vazza, eh? Più lo mandi giù e più ti tira su. L'aroma di questo caffè è impareggiabile. Chissà se è vero che più lo butti giù e più ti torna su. SCOTTA! Accidentanza, è possibile che non me ne vada bene una? Non ne va bene una!